Dungeon Realms Sì, posso dire finalmente ho capito più o meno come sono Sì, allora, praticamente allora 3, 4, 3, 4, non lo posso cambiare Non posso tradarla Allora, questa è la mia banca, la mia enderchest Poi ci metto le gemme e fap Adesso dobbiamo uscire Usciamo per andare fuori a cercare mob da uccidere e altri villaggi Ecco qua L'obiettivo, diciamo così L'obiettivo è esplorare, fapare, cose così, esatto E... Sono andata la parte giusta, forse sì Anche se dubito che ci sia una parte giusta Perché sto cercando un'uscita Questo è un NPC NPC, NPC Dai, dove è l'uscita So che devo andare da questa parte Da questa parte Devo continuare a gironzolare per il confine Perché? Eccola Ecco qua Dove finisce E adesso dovrebbe iniziare la roba faposa E... PVP, quello che è DocWorker Cantolk 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 E qua finisce cosa, giusto? I passi in Qua dovrebbe essere tipo finita, no? Dove è essere fuori Voda Allora Eeeh La cesta is locked Ok, qua dovrei aver tipo finita, no? Dove è essere fuori Allora Allora Qua Dove si va Asmall's round there You have entered Dreadwood Mobs on PVP Off Ok, sono uscito dal castello La... Nella Dream this area Una forza magica Non mi permette di entrare in quest'area Mannaggia la forza magica Eh, sì, sono uscito dalla città Dello spawn Lì Ehi Oh Safe zone No, non voglio la safe zone Ok Adesso sono in un'altra parte Mob zone PVP off Ok, devo cercare di risalire a questa specie di montagna Il bug dei blocchi si può fare? No, direttamente c'entro dentro i blocchi Quindi LOL Eh, non credo poi ce ne sia bisogno Ecco qua No, sono caduta E dai E dai Ok Ah, la forza misteriosa Ah, la forza misteriosa Mannaggia la forza misteriosa Devo Caotic zone Tantan PVP on Sì, qua mi possono tipo Distruggere Ok, sono vicina Sirenica Quello che è Quindi Eh, una safe zone Non posso morire Mannaggia voglio morire E io Se per morire Vuole dire Qualcosa tipo Cercare di aumentare le proprie potenze E cose così Aumentando la cosa E le gemme Quelle cose là Dreadwood Sono entrato a Dreadwood Beautiful city of Sirense Ok, l'ho capito Voglio andare da qualche parte io Please Proprio Fammi andare da qualche parte Perché sono troppo pericoloso Con una spada in legno così Livello alto No, no, non ci voglio andare A Dreadwood Perché ci sono tipo A vari livelli della serie Wow, qua ci sono i mob scarsi Ah Di là ci sono quelli Medi O zio, lì ci sono quelli Overpaw Ah, esatto, così Proprio così Quindi non To make a real safe zone A norm of peace From the heightened vendor Ok, qua E dove volevo andare io Mappa Vai, creati Da qua possiamo Iniziare il nostro viaggio Mucche Mobs on PvP off Ecco il mercante Tanto non posso tradare niente Mannaggia New village Ok, ok, ok C'è un bandito vecchio Muori Per sparta Ma se non riesco a colpirti Mi stai uccidendo Bro, basta Vacci piano Sto morendo Aia, 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 aia Aia, no No, già morire no Vai, entra, entra, entra Accirencia Entra, 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 entra Entra O zio Vieni, bro Vieni, vieni Problem, problem Sto recuperando HP, eh Problem, problem Adesso vado allo scoppio di colpi proprio Perché voglio armor Cos over power Tipo così Vieni, bro Guarda che mi puoi colpire Vieni, girati Bravo, Fappone Muori Sì, ho due gemme Sono un pro Oh, che togo Sì, bravo, bene Bravo io E' pieno di old fappers Andiamo a mettere le cose qui Cosa ho preso? Ah boh Adesso L'efficino L'efficino Per uccidere Questo vecchio bandito Morire Aia, sono un killer Sono un killer, bro Sono un killer Aia, siete tutti contro di me Non vale, non vale Andateci piano Andateci piano Basta, basta Basta, basta Sto morendo, sto morendo Ok, ho capito Ah, ci sono anche delle frecce qua Aia, mori No, no, no No, 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 no Non ho stamina Non ho stamina Oh, zio Cioè, mi uccidono quasi tutti Mannaggia Ok L'altro l'ho ucciso Le frecce non le posso raccogliere Chi c'è qui? Alto là Ah, li ho sterminati Adesso andrò a uccidere Quelle Lazy Bandit C'è, ho 5 frecce Troppo, però 3, 4, 3, 4 Non comune Vieni, bro, vieni Ti sto colpendo, eh L'hai capito? L'hai capito? Tu 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 Dammi lo smeraldo Lo smeraldo Barra gemma Grazie, bro Ti voglio bene Ci sono i ragni qua Ce la faranno Ce la farà Matteo 2000XD Colm Sea Bandit I ragni sono al piano di sopra Mentre qua c'è solo questo Fappone Mori, mori, mori Yeah Ce l'ho fatta Ehm Quindi, boh Ehm, direi che Adesso Ce ne Possiamo anche Andare Ok, quindi Per oggi è tutto Ci vediamo in un prossimo episodio Forse No, troppo presto Dopo Un attimo Ok, rieccoci Nella nostra avventura Nei Dungeon Reals Ehm Allora Come mai ho perso tutti i livelli Ehi Ah ok Là sicuramente ci sono mob Ostili, naturalmente Ehm Sono quasi sicuro al 100% Di solito nelle case position sono Sempre Invece no Stavolta Stavolta Sembra che non ci sia niente Nessuno Soprattutto Ma vorrei entrare Leeds proprio Fatemi entrare Ehm Fatemi entrare Io Volele entrare In This Casa Please Amori Ehm Niente Non entriamo In This Casa Proprio Continuiamo a proseguire Verso questa parte Ah ok 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 Poi ci sono gli scheletri Ehm Cosa sono quelli no Non dimmi che sono No I silverfish Che rompono le scatole Che noia Quanto li odio Mannaggia il loro Allora questo lo kill Dov'è? Dov'è? One shot at Si Evidentemente Evidentemente si Lo che è one shot at Ecco Adesso Uccido il lazy bandit Ehm Apro quella cesta E guarda cosa c'è In quella struttura Ascennine Un Un Oh Ta 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 Wow Una gemma Ok Sei gemme Ottimo Grazie Grazie mille Io ho l'ingraziale mille a te Qui esserci Molti mob safe zone ma se c'era ma se vedevo il nome tipo di un mob ah sono i cosi sono i ragazzi si sono i player shop vediamo il mercante queste 16 gemme le metto nella mia banca si c'è un'altra middle click così un'altra versi boh qualcosa in inglese incomprensibile si qualcosa di incomprensibile in inglese usciamo da questa safe zone tizio aiutami pvp off bravo bro non ho più cibo mannaggia devo trovare il cibo ma quando la finisce questa la stamina ne ho infinita dai che questo mi tiene occupati i mob mentre ah e tu hai il coso magico eh adesso muori ci sono anche tipo infiniti silverfish non può raccogliere il carbone ah mi sono messo in mezzo a fa mamma amori ecco qua si sta raccogliendo il carbone quello ho una gemma voglio andare a prendere quella cesta vieni 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 bro vieni bro aia due due contro uno non vale non vale due contro uno muori intanto il fabone mi ruba le ceste le cose nelle ceste no no bro hai capito male tu mannaggia ti odio c'è lei le one shot ai silverfish aia ma da dove sei uscito aia basta oh sto per morire sto per morire oh oh no 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 io non muoio no 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 ne ho uno dietro ne ho uno dietro no no ho finito la stamina mannaggia non ho più cibo vero? niente mannaggia ok killer ho questo questo è lazy bandit avvicinerò lentamente ah è magico questo ma amori ho finito la stamina aia aia cosa mi hai dato? niente mannaggia adesso andrò a killare l'altro ho bisogno di cibo ma per fortuna la vita mi si rigenera normalmente ahia sono in due ah no si grazie medium reflective armor meno 1% hp 13 hp ah bene adesso vado a rimettere questo aggiungo post safe zone lo so lo so pesci 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 right click right click right click Grazie.